Ciao a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, lasciatelo, sto scherzando. Ovviamente l'ultima assemblea di reazionisti presieduta da Andrea Agnelli, che il 18 gennaio lascerà la sua carica a Ferrero, già nominato da Exor come futuro presidente della Juventus. Abbiamo anche la lista, sappiamo che Scalavino già DG diventerà anche AD, però questa è una giornata molto importante per sentire l'opinione di tanti azionisti che hanno fatto sentire la loro voce, che hanno chiesto a tutto tondo, spaziando dalle dinamiche societarie, passando per quelle processuali e infine anche qualche passaggio sul mercato, non è mancato, una maniera più assoluta. Addirittura abbiamo ascoltato Andrea Agnelli parlare di Romero, ed è sempre stato inusuale sentire l'ormai ex numero uno della Continassa affrontare dinamiche legate alle compravendite. Però oggi Andrea Agnelli ha salutato il mondo bianconero, ovviamente c'è questo tecnicismo del 18 gennaio, in cui Andrea Agnelli sarà presente per il passaggio di consegne, e quindi con la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, però sostanzialmente oggi parliamo dell'ultimo atto e da primo attore per quanto riguarda Andrea Agnelli in versione Juventus. Andrea Agnelli ha detto, io ho lavorato nella massima trasparenza, abbiamo ottenuto grandi risultati, è stato un onore essere presidente della Juventus. E' stato un onore essere presidente della Juventus, d'altra parte questo concetto che la Juventus viene prima di tutto e tutti, Agnelli lo aveva già spiegato subito post dimissione di massa del CDA e lo ha ribadito anche oggi. D'altra parte è la stessa storia della Juventus a far passare a spalleggiare questa corrente di pensiero, perché negli anni ci sono stati tantissimi presidenti che hanno vinto tanto, magari non quanto Andrea Agnelli che, numeri alla mano, è stato il più vincente di tutti nella storia della Juventina. L'unico rammarico che magari si può avere è quello di non essere riusciti a vedere una Champions League con Andrea Agnelli, sebbene la Juventus ci sia andata vicina, arrivando a due finali, Berlino 2015 e Cardiff 2017. Andrea Agnelli è anche a tratti emozionato, d'altra parte credo che non potrebbe essere altrimenti, parliamo di un personaggio importante che per 12 anni ha lavorato, premendo suo acceleratore, il primo Andrea Agnelli credo che sia stato sontuoso, vicino davvero al 10 in pagella, l'Andrea Agnelli dell'ultimo periodo, dell'ultimo triennio, invece ha lasciato anche, diciamo, ha proposto delle lacune, che poi analizzeremo assieme a livello proprio progettuale, dalla scelta di mettere alla porta la D, l'ex AD Beppe Marotta, alla scelta di responsabilizzare i giovani che non hanno funzionato, paratici Re Ricci, esoneri qua e là che non hanno convinto, contrattoni che non hanno convinto Bis, basti pensare l'ultimo di natura quadriennale a Max Allegri, insomma tante scelte che davvero sono andate in contrapposizione con tutto ciò di ottimo che aveva effettuato l'ormai ex presidente Juventino al suo primo ciclo. Agnelli, dicevamo, ha anche analizzato argomenti di natura, fatevi passare questo gergo, Mercatara per esempio su Romero ha detto, perché un azionista gli ha fatto notare come questo è stato un grosso errore di valutazione, nel senso se parliamo di Romero parliamo di un giocatore che avrebbe potuto fare comodo in termini proprio progettuali da Juventus considerando il declino della retroguardia e Agnelli ha detto in quel momento lì avevamo Bonucci, avevamo De Ligt, avevamo Chiellini e quindi Romero avrebbe visto il campo con il binocolo. Questa è stata la frase che ha catturato anche poi le copertine a livello di titolo da parte del presidente Agnelli. E' chiaro che col senno di poi siamo tutti bravi a parlare, ma anche io penso che quella vicenda sia stata gestita molto male da Paratici e in generale da una Juventus che avrebbe dovuto votare un partito non di continuità ma di discontinuità. Di discontinuità perché è vero che in quel momento c'erano Bonucci, Chiellini e lo stesso De Ligt, ma è anche vero che serviva qualcosa di differente per iniziare a svecchiare il reparto e per evitare poi di ritrovarti senza Romero e senza De Miral. Quella non è programmazione, improvvisazione o cattiva progettualità. Figlia anche poi di dover tornare i numeri a livello di bilancio, ma che con la progettualità sportiva non ha nulla a che vedere. Infatti Romero è poi diventato campione del mondo con un Gran Mondiale con l'Argentina, ha fatto un bel percorso con l'Atalanta e con gli Spurs, quindi male. Ha parlato anche l'ormai ex AD Maurizio Arrivabene perché anche per lui non c'è più posto nella Juventus che verrà. È stato stuzzicato sul tema Di Bala. Lui ha detto che Di Bala avrebbe comportato un esborso pluriennale ingente, questa traduzione delle parole di Arrivabene, mentre Di Maria è stato preso anche per cercare di aiutare i giovani per un solo anno e ha dimostrato il suo valore al Mondiale. Anche qua, secondo me, voi sapete perfettamente come io sia stato un grande sostenitore di Paolo Di Bala, ma probabilmente fare quel tipo di contratto sarebbe stato un errore, col senno di poi vedendo anche il minutaggio di Di Bala post quel maledetto Juventus-Lione, perché io continuo a pensare che sia stata quella la partita che poi ha cambiato un po' in negativo, in termini di continuità, l'utilizzo di Paolo negli ultimi anni. Quindi posso capire il ragionamento della Juventus, fatto proprio a livello monetario. È ovvio che poi là c'era un accordo, c'era ben più di una parola data, c'era una stretta di mano tra Organtun, l'agente di Di Bala e Arrivabene, ma sappiamo perfettamente poi come sia stato deciso successivamente di optare per altri programmi e di fare questo contratto a Di Maria. Sul valore di Di Maria credo che nessuno possa dire alcunché, nella maniera più assoluta. Parliamo di uno degli esterni più forti degli ultimi 15 anni, questo basso, però è anche un dato oggettivo constatare come Di Maria alla Juventus, finora abbia faticato enormemente in quanto spesso e volentieri in infermeria. Insomma oggi gli azionisti comunque hanno avuto anche modo di fare delle analisi interessanti e c'era tra gli azionisti una grande sorpresa perché non ci aspettavamo che potesse essere presente qui allo stadio e ha parlato Luciano Moggi che ha fatto i complimenti ad Andrea Agnelli. Moggi ha ricordato che vince, ha spiegato, vince nove squetti di fila, è roba difficilissima che lui stima molto lo stesso Andrea Agnelli e poi ha detto che la Juve ha sempre vinto sul campo e non ha mai rubato niente a nessuno. Ovviamente ovazione tra gli azionisti post queste parole di Moggi che ha fatto mi pare tre o quattro interventi, ha messo nel mucchio più argomenti da Calciopoli alla sua Juventus, alle scelte dell'epoca, insomma come sempre Moggi è molto vulcanico però per la prima volta vediamo Moggi esprimersi in un'assemblea degli azionisti in qualità di azionista lui che è stato un grandissimo direttore generale e anche un grandissimo conoscitore di calcio, aggiungo io. Insomma, ovviamente ha provato il bilancio, a livello di tecnicismi vi rimando poi anche al sito della Juventus dove è tutto ben spiegato anche su gol.com, le perdite già le conoscevamo però questo è stato anche forse un atto finale, malinconico, targato Andrea Agnelli.